Ciao a tutti, mi presento, io sono Pier Giorgio De Campo e sono il CTO di Nuvol SRL, la società italiana. Si parla di casi reali, non è che quello che avete fatto oggi è irreale, è soltanto che la mia azienda che è Nuvol rappresenta quello che è il braccio operativo in Italia di Google Enterprise. Google Enterprise, di cui avete conosciuto qualche rappresentante oggi, è l'azienda all'interno di Google Inc che propone sul mercato le soluzioni che hanno avuto successo nel mercato consumer, quindi Gmail, Google Apps e così via. Nuvol è una startup, ha un mesetto di vita, scarso, diciamo così, però arriva da una storia dei principali due partners, Google New Media e Global Base, che dal 2005 sono partner di Google per la vendita di queste soluzioni. Credendo entrambi che il mercato del cloud sta diventando sempre più grande, sempre più importante, abbiamo deciso di fonderci in un'unica entità in grado di fornire servizi sempre più importanti ad aziende sempre più grosse. Questi sono alcuni dei nostri numeri e qua dentro, nascosti tra questi numeri, trovate tante di quelle tecnologie che oggi voi avete studiato o che già utilizzate per i vostri progetti, per i vostri sogni. Quindi oggi Nuvol fattura circa 8 milioni di fatturato, siamo una sessantina di persone, abbiamo circa 60.000 Google Apps gestite sul territorio italiano, più di 150, 130 search appliance che sono praticamente il motore di ricerca Google messo in una scatoletta, con la scatoletta gialla e portato all'interno dell'azienda, che quindi le aziende lo possono utilizzare per i propri fini di ricerca. Vendiamo le licenze Google Maps, perché non so se sapete ma Google Maps è uno dei prodotti enterprise di Google, che quindi chi le usa per business deve riconoscere una licenza. Abbiamo una piattaforma video cloud che, diciamo così, completa la soluzione della nostra proposizione. E dove ci muoviamo? Ci muoviamo in quello che è il mercato. Quindi questo è il mondo reale delle aziende come noi che offrono servizi. Voi siete forse in un'area ancora particolare dove cercate di realizzare il vostro sogno. Nel mercato oggi vanno questi argomenti che sono stati così racchiusi nella frase The Nexus of Forces. Il cloud, perché è sicuramente uno degli elementi che aiuta all'evoluzione e all'innovazione. Il social, perché è la relazione tra tutti noi. Le piattaforme mobile per la mobilità e la gestione delle informazioni. Uber, penso, sia uno degli esempi che racchiude questo tipo di soluzioni. E questi sono alcuni dei nostri clienti che utilizzano le piattaforme Google. Li ho portati qua, non tutti, sono tre più grandi, ma significa che sono dei clienti che si sono già avvicinati al mondo cloud. Cioè che utilizzano già, in un modo o in un altro, una tecnologia Google all'interno della loro soluzione. Come vedete, sono aziende molto, molto grandi anche che già fanno questo. Google offre i servizi per le aziende, quindi abbiamo detto. Tra i vari servizi, dall'anno scorso circa, offre la Google Cloud Platform. Quella che oggi voi avete visto, che forse qualcuno probabilmente usa già, che oggi avete studiato, avete provato e avete testato. Gli elementi, possiamo ripeterli, sono App Engine, che è il platform as a service proposto da Google, quindi il frontend, il web server dove inserire le informazioni. Compute Engine, che è l'infrastructure as a service proposto di Google, quindi la capacità computazionale. Google BigQuery, per andare a gestire l'infinita quantità di informazioni che ormai tutti i progetti web o mobile vanno a generare. Cloud SQL come database e storage come capacità di memorizzazione. Ma cosa ha fatto Google? Forse alcune di queste schermate le avete già incontrate oggi. Io le riprendo anche proprio perché è un po' quello che noi andiamo a comunicare alle aziende nella nostra attività di tutti i giorni di vendita. Google ha, pochi anni fa, sviluppato un'infrastruttura gigantesca. Considerate che Google è il terzo produttore di hardware al mondo. Non so quanti lo sapevano, ma non lo rivende l'hardware, lo usa per se stesso, ma è il terzo produttore al mondo. Ed ha la seconda rete più distribuita al mondo, prima level 3 e secondo è quella di Google. Ed è proprietaria, level 3 la vende come servizi, Google la utilizza per se stesso. E quindi ha creato questa infrastruttura per andare a fornire dei prodotti consumer, li abbiamo definiti, il search, l'analytics, YouTube, Gmail, Google Maps e così via. Poi in una seconda fase ha cominciato a offrire questi prodotti, come vi ho raccontato prima, alle aziende. Quindi le università possono prendere Gmail gratuite, qualcuno prende Google Maps, qualcuno prende il search e così via. Infine, in terzo step, quello che avete visto oggi, Google sta aprendo la sua infrastruttura. Quindi quando voi utilizzate App Engine per mettere il vostro progetto, sappiate che utilizzate la stessa infrastruttura che Google utilizza per il suo Google Cloud, scusate, Google Search. Quando userete BigQuery per salvare tutte le informazioni di utilizzo delle vostre piattaforme mobile web, usate la stessa piattaforma che Google utilizza per memorizzare ogni click che noi facciamo nell'interfaccia Gmail e che Google poi utilizza per andare ad analizzare se quelle funzioni sono utili, se gli utenti le utilizzano e se non le utilizzano toglierle oppure rafforzarle. Se utilizzerete lo storage come capacità di memorizzazione di file di grandi dimensioni, userete lo stesso di Google dove ci mette i video di YouTube, ad esempio, dove voi caricate e finisce un video di YouTube. E se usate un'infrastruttura di Compute Engine per convertire il video di YouTube, usate la stessa infrastruttura che Google utilizza per prendere il vostro video di YouTube e preparare le rendition che devono essere visualizzate su tutti i device. Avevo preparato qui di seguito alcuni schemi che probabilmente questa mattina Bastien o Christophe vi hanno già presentato e sono degli schemi che Google propone per la realizzazione dei progetti. Perché prima è stato fatto un nome di un concorrente di servizi cloud che è già presente da anni e che è leader in un certo settore. Questo concorrente ha però un approccio diciamo tradizionale principalmente, cioè dice ok, prendi la tua applicazione e portala da me, acquisti server e paghi server e i servizi li presenti in modalità basata sul consumo e in un qualche modo continui a lavorare come eri abituato. Google fa qualcosa di più. Google dice nella mia storia io ho sviluppato una serie di prodotti e li utilizzo per realizzare le mie applicazioni. Quindi anche tu quando realizzi un tuo progetto utilizza questi prodotti esattamente come li ho fatti io. Questo schema che probabilmente credo oggi l'abbiate già visto rappresenta la modalità di funzionamento di YouTube, che è una modalità di come vengono caricati i dati e come vengono gestiti. Ed è chiaramente una modalità in cui tutti i servizi di Google Cloud sono a disposizione. C'è il front end che come vi dicevo è il web server quindi su App Engine. C'è la possibilità di storage dove io potenzialmente posso mettere infinite quantità di dati. Immaginate che il primo limite che si incontra in storage è di 5 terabyte della dimensione di un bucket. Quindi già un limite abbastanza alto. C'è la possibilità sia utilizzando il data story interno di App Engine che è in Cloud SQL di memorizzare i metadati di quel video che io ho messo in questa parte. Ma quando il video è terminata la sua elaborazione un alert al sistema che dice ok il video è su può attivare attraverso una task queue una elaborazione di quel video utilizzando la capacità computazionale di Google Compute Engine. E quindi io posso mettere in piedi un sistema che nella sua globalità è scalabile. Cioè se io ho centinaia, migliaia di utenti che mi caricano dei video, delle immagini sul mio sistema, io non ho limiti nella capacità di storage, non ho limiti nemmeno nella capacità di computazione e di trasformazione. Perché quei video Compute Engine, scusate, quelle macchine di Compute Engine le posso creare con delle API dinamicamente come desidero. A noi hanno fatto vedere una configurazione in esecuzione su YouTube di 600.000 core che stavano elaborando i video di YouTube. Quindi immaginate quanto effettivamente tutta questa struttura è scalabile. E Google dice utilizzala anche tu, non limitarti a sviluppare la tua applicazione all'interno di un Tomcat e metterlo su Compute Engine. No, riscrivila magari e mettila in Java, in Python, adesso anche in PHP, sulla parte di frontend. La stessa cosa la propone... La stessa cosa la propone per la parte mobile. Dove praticamente anche questa vi è stata presentata, ci sono questi cloud endpoint che sono degli avamposti della rete di Google, che la rete di Google è distribuita a maggiori distribuzioni nel mondo, ma questi cloud endpoint li trovate molto più distribuiti anche all'interno del territorio. E in questo caso qua capite perché aziende come Razo, come Angry Birds sono riuscite praticamente a sostenere il loro business. Angry Birds era nato non su Google, ma è passato Google, a sostenere il loro business e la loro crescita. Mastien ci ha raccontato di un esempio di una piccola azienda, probabilmente una come voi, di cinque ragazzi che hanno inventato un gioco su mobile e praticamente in pochissimo tempo hanno avuto un grandissimo successo e l'applicazione App Engine che sosteneva quel gioco aveva un qualcosa come 8000 query al secondo di richieste. Considerate che Google App Engine di default, se superate le 700 query al secondo, considera quello come un attacco di DOS e quindi vi chiude il servizio. Chiaramente si può migliorare. Però voi immaginate dei ragazzi giovani come voi che partono, non potrebbero mai mettere in piedi un'infrastruttura in grado di tenere quel carico. Questa è la schermata, quella per la gestione di Big Data. Nuvole in questo tempo, utilizzando tutti gli strumenti di Cloud Services, ha sviluppato un framework che abbiamo chiamato APE e che consente di offrire ai nostri clienti una piattaforma per andare a sviluppare in maniera molto veloce ed integrata tutte quelle che sono le informazioni che oggi servono ai nostri clienti. Quindi i Cloud Services, Maps, il mondo social, il mondo video, il mondo Enterprise stesso. Perché un aspetto molto importante è che se io utilizzo questo oggetto in Enterprise voglio cedere magari i dati che si trovano comunque all'interno del mio firewall. Perché il Cloud per voi è tutto. Per le aziende che già esistono c'è un esiste e deve essere rispettato chiaramente. E appunto APE è la nostra soluzione che noi utilizziamo per andare a evangelizzare queste applicazioni. Il giro si chiude perché noi siamo diventati partner di un prodotto che si chiama GIGIA, anche questo è un prodotto della Silicon Valley, che offre una social infrastructure per fare business con il mondo sociale e guarda caso tutto questo progetto è ospitato sul mondo di Google e quindi in un qualche modo ci si ritrova. Ma cosa succede quando noi andiamo a proporre un progetto ad un'azienda che è abituata a fare le cose in modo tradizionale? La prima cosa l'azienda ci dice ma i costi, quali sono i costi? Noi non possiamo rispondere comprati un server, due server eccetera. Quindi c'è tutto un modello che dobbiamo convincere i nostri clienti ad adottare. Questo è un disegno che purtroppo non si vede molto bene, dove praticamente abbiamo riportato quello che è un po' il comportamento di quelli che sono i costi. Fondamentalmente l'azienda che parte con un progetto fa una previsione di costi, di infrastruttura che è quello del carico che è sotteso. Con un progetto tradizionale comincia a, parte da un momento zero in cui ha un costo iniziale, procede con quell'infrastruttura fino a che quando vede che si avvicina riparte con un investimento, potenzia l'infrastruttura e va avanti in questa dimensione. Che cosa succede? Si creano delle criticità perché se io provisto di crescere qui ma poi per qualche motivo anche di programmazione non ce la faccio deployare, vado oltre a quello che è la capacità e quindi entro in una zona rossa, una zona di pericolo dove io ho dei problemi e in questo livello problemi significa mancato business, mancata revenue. Quella che invece è la riga rossa che vediamo è l'attuale richiesta effettivamente, quella che è la riga gialla è quello che il mondo cloud in un qualche modo si comporta e che quindi segue esattamente quello che c'è. Da questa parte vediamo il total cost of ownership che è un po' che confronta un progetto tradizionale dove io più vado avanti nel tempo più il costo di proprietà dell'infrastruttura mi si riduce, a invece un modello cloud dove invece i deploy più veloci le strutture che costano il meno mi determinano un abbattimento di quello che è veramente il costo del TCO. Quindi per andare a fare quella valorizzazione, io so che oggi voi avete già visto tutte le pagine, io quella le ho riportate, noi ci siamo creati dei modelli perché bisogna intervistare il cliente, capire, analizzare quali sono le sue capacità, probabilmente un'attività che farete anche voi con le vostre startup, capire quali sono i carichi e andare ad avvalutare tutte quelle che sono gli elementi che io andrò ad utilizzare nella mia applicazione servizio per servizio per capire quanto costa. I servizi sono tanti, in App Engine pago in base alle CPU che utilizzo, la granularità di scalabilità di App Engine è la CPU, non è il server, quindi io posso avere uno, due, tre CPU. Posso avere delle CPU di front end che sono quelle che muoiono e si spengono, di quelle di back end che le posso lasciare accese. Pago la banda, lo storage, e tantissime tantissime caratteristiche. Con Compute Engine scelgo il server, la potenza del server, pago però la banda, perché se io comunico con questo server vado sempre a pagare, i dischi persistenti e gli IP pubblici che mi vengono pubblicati. In BigQuery il modello è chiaramente molto semplice, pago in base alle query e alla movimentazione di dati che faccio e di analisi che faccio nei dati, e in Cloud Storage impago fondamentalmente in base allo storage. Considerate che la banda in input è sempre gratuita, quando io faccio un upload, è la banda in output che vado a pagare al momento. Vi do un esempio, se andate a vedere, nei primi terabyte si pagano 0,068 dollari al gigabyte mese. Quindi sono veramente costi molto molto interessanti. Cloud SQL invece ho due modelli. Uno per use, che praticamente pago in base alle giornate, se prevedo un uso saltuario del mio database, quindi che non è un uso continuo, oppure per hour, per ora, nel caso in cui invece io penso di utilizzarlo tanto. A questo andiamo ad aggiungere il supporto premium che Google offre, quindi c'è un supporto silver, dove mi garantisce lo slide, c'è un supporto gold, dove addirittura mi garantisce il supporto telefonico 24x7. E che cosa fa Google alla fine del mese? Manda una fattura. Io vi ho copiato proprio queste fatture per capire come sono chiare le condizioni. Vedete che a seconda di tutte le informazioni, quindi dei servizi che io sono andato ad utilizzare, mi viene riportato esattamente la quantità e il costo. Addirittura, siccome all'interno di questo progetto utilizzavamo diversi progetti di tipo Google Cloud Storage, per ognuno di questi mi viene dato il dettaglio. Quindi mi si dice, ad esempio, che se io vado a vedere in questa applicazione ho fatto 17.000 ore di lavoro in un certo mese, per questa 9.000, per quella 1.000, per la banda, qui ho avuto 5,5 terabyte e così via. Quindi ho veramente un controllo dettagliato. Abbiamo ricevuto pochi mesi fa una mail in cui si scusavano perché per un progetto c'era stata una doppia fatturazione di un valore e quindi ce l'hanno accreditato. Quindi è tutto molto trasparente, molto chiaro, molto limpido. Bene, quello che vi ho raccontato è avvenuto in un caso reale, che è già online, che si chiama Aleteia e che vi volevo raccontare un po' come è nato il progetto e come noi effettivamente l'abbiamo intervistato. Allora, Aleteia è un'associazione cattolica vicino al Vaticano che, in un qualche modo, si è impegnata per l'evangelizzazione mondiale. L'idea, l'intuizione, la necessità di realizzare un progetto di questo tipo è nata sul fatto che il mondo, la chiesa cattolica ufficiale non presidi al web, non presidi al web né quello di Google, nel social, il Papa è su Twitter da poco, però non c'è un'immagine ufficiale. E quindi loro hanno detto, ok, c'è la possibilità di creare un'infrastruttura che vada in un qualche modo a comunicare nel web in questa direzione. Questo si è trasformato in un progetto di business, rendiamolo chiaro, cioè è uno spazio dove utilizzando le logiche di AdWords, di pubblicità, eccetera, io posso tirare quelli che sono quei 400 milioni potenziali utenti cattolici nel mondo digitalizzati e quindi mi possono creare un business. L'obiettivo del business è che venga rinvestito in questa fase, però diciamo che il progetto è un classico progetto media nel web. Quindi come prima fase è stata fatta una web analisi, ma è vero che la gente nel mondo sul web cerca problematiche di tipo cattolico, ok? Ed effettivamente da questa indagine si è scoperto che in diverse parti del mondo argomenti diversi contemporaneamente sono oggetto di ricerca. E quindi questa web analisi è stata fatta sia sul web che sui social, in po' tutte le parti. da qui è partita la richiesta del cliente. Perfetto, io voglio fare un centro attrattore per questi utenti sul quale svilupperò un modello di business, l'obiettivo è che devo arrivare a 30 milioni di utenti al mese in un certo periodo di tempo. Da qui ci sono state delle attività legate alla progettazione di quelle che sono le campagne di marketing digitale, in un qualche modo. Dall'altra parte c'è stata una progettazione che è dammi un'infrastruttura che sia in grado in uno, due, dieci mesi arrivare a sostenere 30 milioni con la base di spendere il meno possibile. Questo è chiaramente uno degli input principali. La nostra soluzione, guarda caso, è stata proprio quella di andare su Google Cloud Services e il progetto ufficiale è partito nello sviluppo il 7 di gennaio. Il 29 di gennaio c'è stato il go live di quello che era un sito. C'era un progetto, un abbozzo di progetto precedente che è stato importato nella nuova infrastruttura e abbiamo fatto il nuovo sito. A parte la capacità di produrre, di scrivere il codice o degli elementi già pronti, eccetera, dove è stata la grossa accelerazione. Che il nostro investimento in tempo e denaro per mettere in piedi l'infrastruttura sia di dev, sia di staging, sia di produzione è stato zero. Cioè noi siamo entrati in App Engine, abbiamo acceso una macchina, abbiamo fatto il deploy dell'applicazione e il tutto è partito. Immaginate, ripeto, anche costi zero, immaginate quello che sarebbe successo invece di dover andare su un'infrastruttura tradizionale a provvedere all'hardware, al software e così via. Quindi alla fine esiste un progetto che oggi è composto da una parte di back-end dove ci sono 200 editor sparsi in tutto il mondo che producono contenuti in otto lingue diverse, compreso l'arabo. Questi contenuti vengono pubblicati in un portale web diviso in queste otto lingue. Alcune di queste lingue sono caratterizzate non solo per la parte di lingua ma anche per la territorialità, perché si è scoperto che in Messico e in Spagna si parla lo spagnolo ma le argomentazioni di interesse sono diverse, quindi la home page deve essere diversa perché manda informazioni diverse. Gli utenti si trovano tutti nelle Google Apps, quindi hanno un account di Google Apps e quindi noi abbiamo il sistema di single sign on per riconoscere gli utenti, quindi la login e la password e così via. Che cosa succede a qualsiasi startup? Perché Aleteia è una startup. Succede che quando va sul mercato c'è la crescita inaspettata. In questo caso la crescita inaspettata per questa società di media è stato il 28 febbraio un mese dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI che hanno portato per veri motivi un aumento di quello che era il picco di accesso vedete in quello schema, degli utenti al sistema. Vi posso dire da responsabile tecnico che io mi trovavo a San Francisco per un evento di Google e questa cosa l'ho gestita da San Francisco guardando Analytics che cresceva la righetta senza preoccuparmi di quello che erano i server di crescita, spazi disco, le classiche problematiche di qualsiasi progetto dove io non vado ad utilizzare un'infrastruttura come Google App Engine. Quindi questo è stato per me motivo di relax per il cliente motivo anche di risparmio e comunque di verificare la piattaforma positiva. Perfetto, io avrei finito. Ho pensato di chiudere con questa schermata, non so se avete avuto modo di vederlo perché io ho i capelli grigi e si uscirà il trailer diciamo. Io ho i capelli grigi, ho iniziato a lavorare pensate quando c'era l'MS-DOS, non c'era ancora Windows e quindi un po' di anni fa e quindi quando abbiamo visto questo film questo trailer che ce l'hanno mostrato proprio San Francisco Marzo ci siamo sentiti un po' come dei pesci fuor d'acqua come questi due attori di questo film. Sicuramente voi siete più simili al mondo digitale che oggi è stato presentato purtroppo viviamo tutti in un momento di difficoltà che per noi grazie a Google è in realtà un momento di crescita perché Google porta innovazione, porta risparmi e quindi ci sono molte aziende che pur nella difficoltà stanno passando a queste tecnologie. Come esperienza di un vecchietto quello che posso dirvi è di continuare nella vostra direzione, credere nei vostri sogni, investire, il lavoro premia, il lavoro prima o poi vi darà qualcosa, vi premierà, lavorate bene e nient'altro. Domande? Vai. Allora, che intendi per soluzioni, cioè qual è la differenza fondamentale? Ah, quindi era per lui, non era per Google in generale, scusa. Dunque sì, Nuvol si occupa chiaramente della pubblica amministrazione, è uno tra i mercati, uno dei mercati più attenti proprio a questo tipo di tecnologie perché purtroppo sappiamo tutti in che stato si trova la pubblica amministrazione e quindi quelle tre chiavi di interpretazione che vi ho dato prima, innovazione, di cui la Piani ha tanto bisogno e risparmio sono due chiavi che effettivamente sono attente. Tutta la piattaforma Google è una piattaforma di interesse alla pubblica amministrazione, quindi esistono tantissime search appliance, quindi il motore di ricerca che la pubblica amministrazione utilizza nei propri portali, tantissime Google Apps, quindi comuni, ASL, quindi ovunque che adottano per risparmiare la piattaforma mail di Google, esistono, cominciano, proprio perché è nuovo, esserci anche tanti progetti, ne vedrete uno nuovo, abbastanza importante, verso la fine di questo mese, completamente realizzati sulle piattaforme di Google, quindi anche progetti molto importanti, proprio perché il parametro del costo è sostanziale. Allora, le soluzioni di Nuvole sì, le Nuvole è una società con sede Milano, Firenze e Roma, più alcune sedi distaccate, tutto in Italia. Sì, non abbiamo voluto metterlo nella schermata, però lui vi aspetta lì fuori. Se è un messaggio che posso lanciare, stiamo cercando tante persone. rispetto a quelle problematiche noi siamo degli spettatori, non possiamo fare niente. Io vi posso dire che è l'esperienza. Nel 2007 noi abbiamo cominciato a proporre le Google Apps, quindi Gmail alle aziende, e vi posso assicurare che sono state tante porte in faccia, chiuse, perché a nessuno interessava. La prima cosa che ci dicevano erano i miei dati, dove sono, cosa fanno, eccetera, eccetera. Da allora oggi è cambiato tanto, è cambiato la legislazione, la legislazione della privacy nazionale. Considerate che con le licenze di tipo premier si ha diritto anche di scegliere di limitare la posizione del dato in Europa. Quindi non viene sparpagliata nel mondo, ma rimane solamente dei server europei. Già questo anche nella pubblica amministrazione rende la piattaforma disponibile. Inoltre esistono tantissime certificazioni che Google nel tempo ha adottato per rendere questa parte sicura. Sia, dico, nella mail, che è sicuramente uno dei prodotti più impegnativi, sia nei cloud services. Inoltre, ritorno con la mente dove c'era quello scimmione a cavallo di App Engine, di quel motore. Lì sotto noi avevamo messo l'enterprise, proprio perché, come vi raccontavo, l'azienda, quando realizza un progetto web nuovo, magari trova nel cloud le soluzioni che gli interessano. Per assurdo potrebbe trovare nel cloud solamente App Engine, come front-end, per mettere la propria infrastruttura scalabile. Però il dato, magari tramite dei connettori nativi che Google propone già, perché si chiama un secure data connector, un connettore che crea un canale sicuro in HTTPS tra un server in azienda e l'applicazione cloud, che nessuno può superare perché se non sei logato all'interno della piattaforma. Quindi esistono, ad esempio, aziende che cominciano ad adottare questa soluzione per una intranet, ad esempio. Non chiusa nell'azienda, dentro, dove ti serve la VPN per entrare, ma magari invece aperta, che così la intranet me la posso cedere da casa, la posso cedere da tablet, da mobile, e così via. Cose che le tradizionali applicazioni non sono invece in grado di supportare. Grazie. Prego. Passalo dietro. Sì, grazie. Volevo chiedere se alcune applicazioni sono anche deployabili nell'infrastruttura privata di un'azienda, per esempio Google Maps o magari lo stesso Gmail, se è deployabile insomma. No, allora esistono, però...